La morte che non ha potere, che non uccide, la morte che viene sconfitta dalla vita. La certezza della fede è questa, Biagio Zanni, che adesso vive per l'eternità e può pregare per una città che appare in silenzio, come stordita da un omicidio ancora avvolto nel mistero. Nella chiesa di Santa Chiara, stracolma e vietata alle telecamere, l'omelia di Don Alessandro Farano ai funerali del 34enne ucciso durante una rissa sul porto di Trani sabato notte suona come un messaggio di speranza, lo stesso che diede Gesù Cristo come raccontato dal Vangelo di Luca quando Annain, in Giudea, risuscitò un ragazzo e lo riconsegnò alla madre. Oggi come allora Dio, ha detto il sacerdote, non si chiede i motivi della morte, non vuole sapere il perché, consegna però all'eternità e invita chi rimane a non piangere, consapevole che la vita è capace di sconfiggere la morte. Certo che Biagio si trova ora nella dimensione della vita vera, fuori da quella bara portata a spalla dagli amici di sempre. Il resto è il dolore composto di genitori e parenti di una città che adesso vuole sapere cos'è davvero successo con la notte sul porto, se Biagio cioè si è intervenuto per sedare una rissa oppure si è andata in maniera diversa. Le indagini dei carabinieri si concentrano su una banda di giovanissimi, tre addirittura minori, uno di loro fortemente sospettato di aver inferto le coltellate mortali a Biagio, simbolo ora di una città incredula.